5 casi particolari della loro gestione all'asta del fantacalcio prima di iniziare con il video lasciate un mi piace come metodo di supporto al canale se non siete iscritti vi invito ad iscrivervi il primo nome di cui vi vado a parlare è Caputo tanti mi avete chiesto come dovevate comportarvi con Ciccio Caputo al fantacalcio allora adesso è andata la sample, la situazione è leggermente diversa in termini di polarità forse ci ha guadagnato anche qualcosa ma in termini di bonus potrebbe aver perso qualcosa io vi dico di considerarlo come un terzo slot al fantacalcio non ha più la concorrenza serrata di Scamacca e Raspadori ma la concorrenza di Quagliarella che è una concorrenza più blanda anche se attenzione non è detto che possa giocare solo uno dei due ma potrebbero giocare anche entrambi con un 4-4-2 quindi non escludete l'acquisto di Caputo al massimo pensate di escludere l'acquisto di Quagliarella la coppia, attenzione, è nettamente sconsigliata il secondo giocatore che va gestito all'asta del fantacalcio è Nandez del Cagliari era sul mercato ma comunque stava giocando nel Cagliari di Semplici e per ovvi motivi adesso che il mercato è chiuso continuerà a giocare e il titolare può fare diversi ruoli mediano, esterno in centrocampo mezzala, quindi dello spazio in mezzo al campo lo trova al 100% quarto, quinto slot da alternare in base alle partite terzo nome è quello di Mimmo Berardi anche lui rischiava di andare via alla fine è rimasto dal Sassuolo ed è rimasto come principale leader della squadra visto che Caputo è andato via adesso anche il principale rigorista i numeri della scorsa stagione erano ottimi e può confermarsi quest'anno può confermarsi come semi-top al fantacalcio attenzione che il suo prezzo visto che non ha giocato le prime due partite di campionato potrebbe essere calato gli ultimi due nomi sono due nomi che sono rimasti ma che dovevano andare via il primo è Mattia Destro ha avuto qualche problema con la società ma alla fine è rimasto e si è anche chiarito e attenzione sarà titolare o meglio parte per essere titolare insieme a Chaisedo nell'attacco a due del Genoa l'altro nome è quello di Imbalanzola che aveva litigato anche lui con la società ma attualmente non è stato reintegrato in Rosa non è andato via è rimasto ma attualmente sconsiglio il suo acquisto bene ragazzi il video finisce qui come sempre iscrivetevi al canale se non siete iscritti lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti